Grazie per essere venuti qua questa sera alla proiezione del film Domani Torno a Casa, un film documentario che è stato presentato anche l'anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia e rende molto bene quello che la nostra associazione fa. Se qualcuno di voi non la conosce, Emergency è un'associazione umanitaria che da ormai 15 anni fornisce assistenza sanitaria gratuita e di alto livello alle vittime civili delle guerre, delle mine anti-uomo e in generale della fame e della povertà. Inoltre, Emergency, attraverso anche serate come questa, contribuisce a diffondere una cultura di pace, di solidarietà e rispetto ai diritti umani. In questo filmato vedremo due ospedali a confronto, quello in Cambosa e quello in Sudan. L'ospedale cardiochirurgico che Emergency ha costruito a tempo di record e che è attivo da due anni a questa parte, un centro di cardiochirurgia d'eccellenza che sarà il punto di riferimento per lo sviluppo di una rete capillare di cliniche per far sì che anche l'Africa un giorno possa avere il diritto alla salute, che è uno dei diritti fondamentali della persona umana. Un diritto alla salute significa avere a disposizione una serie di cure mediche, di cure sanitarie per poter vivere, per poter lavorare, per realizzarsi. Quindi, dopo il filmato, se avrete domande saremo qui per rispondervi, per soddisfare le vostre curiosità, poi ci saranno anche i pacchetti informativi. Io mi fermo qui, lascio la parola agli immagini del film e vi auguro una buona visione.